È la prima volta nel 2023 che i vari analisti internazionali e pseudo guru dei mercati e le cripto non tirano fuori delle previsioni con Bitcoin che va a 1 milione, 2 milioni, 2 milioni, 3 milioni, 3 milioni e 3 milioni di dollari per la prima volta. Come vai? Perché moltissimi analisti pensano che il 2023 sia un anno di prosecuzione di quello che è la fase ribassista dei mercati crypto, Bitcoin e anche dei mercati old. In pratica, ragazzi, moltissimi dei investitori del settore delle criptovalute pensano che il re delle criptovalute continuerà in pratica questa sua trend di natura ribassista anche all'interno dell'anno 2023. Da che dipende questo concetto? È veramente rischioso l'anno 2023 così come si pensa? E quali sono i 5 pericoli più importanti, più rilevanti che Bitcoin dovrà affrontare proprio nel 2023? Li analizziamo in questo video e risponderemo poi alla domanda se effettivamente questo 2023 può essere così difficile come si ci aspetta e che cosa bisogna andare a guardare per capire se stiamo andando in effetti verso un altro anno come il 2022. Uh, terribile. Vabbè, prima di andare avanti io lo rilancio il mio Bitcoin perché nell'ultimo video ci ha portato fortuna e ci ha fatto fare un bel pump gigantesco, cioè gigantesco, pump piccolizio, prima di andare ad analizzare quelli che sono appunto ragazzi questi, questi scenari che dobbiamo vedere oggi. E ovviamente come sempre iscrivetevi al canale e se ancora non l'avete fatto lasciate il pollicione. Come fa un investitore nell'anno 2023 a comprendere come deve agire se ad esempio ha una chiave, un orizzonte temporale di medio o lungo periodo, quindi non è un investitore brevissimo, quindi non è un trader sostanzialmente, come fa a comprendere se è il caso in effetti di restare su questi mercati oppure attendere, oppure per esempio fare un asset allocation differente con una diversificazione degli investimenti e lasciare una parte dei propri investimenti magari proprio nel cash, quindi nel dollarone, che è stato l'asset migliore nel 2022, essendo l'unico che praticamente non crollava, ovviamente. Allora, come sempre l'investitore deve analizzare quelli che sono gli scenari e deve analizzare gli scenari di rischio, e quindi oggi andiamo a vedere questi che sono i 5 punti rischiosi, partendo dal primo. Il più, uno dei primi rischi che Bitcoin dovrà affrontare nel 2023 esattamente ragazzi è questo, cioè la possibilità che ritorni il concetto dell'inflazione nuovamente nel nostro mondo economico dopo questa fase di leggera fase ribassista, vi faccio vedere i grafici in questione. Abbiamo visto che nei mesi a partire da giugno del 2022 il tasso di inflazione che riguardava gli Stati Uniti in generale è iniziato a scendere, vedete, da qua a qui è iniziato a subire gli effetti della politica restrittiva di Powell e della Federal Reserve. È ancora lontano dall'essere ad un livello naturale di inflazione, che è questa linea che vedete in questo momento. È anche vero che qui manca l'ultimo aggiornamento che riporta il tasso di inflazione più o meno in questa zona del 6%, e poi avremo nella giornata proprio di giovedì, quindi domani in pratica, anche un aggiornamento rilevante di questo tasso di inflazione. Allora, uno dei pericoli che Bitcoin dovrà affrontare in pratica è la ripresa di questa curva, cioè il ritorno con una magari ondata nuova di inflazione con un doppio massimo, magari comunque in linea di massima una ripresa del tasso di inflazione e della risalita di questa curva sarebbe un cigno nero per quanto riguarda il mercato delle criptovalute. E questo impatterebbe in maniera estremamente negativa. Quindi primo punto fondamentale da andare a guardare per tutto l'anno 2023, ragazzi, è che il tasso di inflazione che abbiamo visto e disiava scendere, il trend del tasso di inflazione deve mantenersi in ribasso, quindi a ribasso deve continuare a scendere, possibilmente avvicinandosi a quelli che sono i target della Federal Reserve. Perché questo discorso? Perché qualora il tasso di inflazione dovesse ritornare a salire, impatterebbe negativamente sulla politica della Federal Reserve e sul panico generale che si andrebbe a creare sui mercati, in pratica ci sarebbe una fuga dagli asset di natura tech e un riposizionamento su quelli che sono gli asset estremamente low risk, i cosiddetti asset a beta molto basso, che in questo caso, in questo contesto, sarebbe praticamente solo il cash, perché probabilmente anche tutti gli altri settori subirebbero un crash importante. Quindi anno 2023, primo punto da tenere sotto stretta osservazione, è il tasso di inflazione. Andiamo a vedere il secondo secondo cigno nero che Bitcoin dovrà affrontare nel 2023, che potrebbe causare un'ulteriore continuazione di questo trend ribasista, i contrasti di natura geopolitica. Cioè se la questione è legata alla guerra in Ucraina, Europa, Russia, tutto quello che c'è dietro, peggiorerà nell'arco del 2023, 3 per eventi che al momento non siamo in grado di poter controllare, quindi eventi di natura cosiddetta esogena. Se dovesse succedere una cosa del genere, i mercati delle cripto, essendo mercati high tech, essendo estremamente rischiosi, essendo in questo momento anche un po' isolati dal mondo finanziario, dopo tutti i fallimenti che sono avvenuti nell'anno 2022, ne subirebbero amare conseguenze, ragazzi, perché da un certo punto di vista tutti gli asset si sposteranno e i capitali si sposteranno negli asset a basso contenuto di rischio, perché ovviamente una guerra implica una paura, quindi un aumento della paura, e Bitcoin potrebbe risentirne. C'è anche un altro tipo di indotto da un conflitto geopolitico che peggiora, cioè l'indotto che poi si ha sulle cosiddette materie prime, ma lo vediamo tra un po'. Il terzo punto in questione è appunto il crash delle materie prime, ragazzi, che invece è un concetto opposto a quello che vedremo tra un po', con quello che vi ho detto prima. Quindi se c'è una questione geopolitica che impenna, le materie prime non crashano, ma salgono, ovviamente, soprattutto se è un confronto geopolitico e quello con la Russia, e salendo impatterebbero negativamente sull'infrazione a catena, creando appunto questo circuito di spirale negativa. Mentre un crash delle commodity, ragazzi, è una cosa differente, perché nei sistemi economici in generale, quando ci avviamo a un concetto di crisi e recessione, le commodity crashano per ultime. Perché, ragazzi? Perché inizialmente quando c'è una politica finanziaria dei tassi di interesse, che rialza i tassi di interesse, ci sono delle reazioni a catena su diversi asset finanziari. I primi che reagiscono, ovviamente, sono le obbligazioni, che sono correlate perfettamente ai tassi di infrazione e ai tassi di interesse. Poi, dopodiché, a catena ci sono gli high tech del settore equity, e poi ci sono in ultima istanza proprio le commodity. Perché le commodity crashano, ragazzi, alla fine di una fase di politica restrittiva, come quello che vediamo? Perché semplicemente si frena la domanda, il consumo, e frenandosi il consumo, iniziano a consumarsi di meno le commodity e di conseguenza anche il tasso di inflazione scende. E questo è quello proprio che la Fed sta cercando di fare. Quindi il crash delle commodity è forse, tra questi punti, il più semplice che avvenga. Cioè, è quello che effettivamente potrebbe, in effetti, avvenire in maniera altamente probabile, diciamo così, nell'anno 2023. Perché questo impatterebbe negativamente sui mercati delle cripto? Perché un po' il concetto che Bitcoin sia vicino e invicinato, insomma, abbia dei legami con quelle che sono le commodity più standard, c'è sempre stato. Quindi, qualora il mercato decida che in effetti le crypto e le commodity siano un po' correlate tra di loro e in ultima istanza le commodity dovrebbero scendere proprio nell'arco dei prossimi mesi di prezzo, potrebbe decidere che Bitcoin non ha linfa per salire. Magari non crescerebbero come negli altri eventi che sono più cignonero di questo, però allo stesso tempo potrebbe non avere la spinta appunto per salire. Quindi, uguaglianza commodity uguale Bitcoin. Dal mio punto di vista, questo punto, ragazzi, non è da prendere in considerazione con grande probabilità perché secondo me un crescente delle commodity potrebbe impattare sui mercati delle criptovalute non in maniera diretta. Quindi, probabilmente ci sarà un effetto, però sarà maggiore l'effetto della riduzione del tasso di infrazione dei prezzi che in questo momento secondo me è più legato alla politica monetaria ed ha più influenza sul mercato delle criptovalute. Quindi, io a questo punto lo lascerei un po' così. Allora, quarto punto che ovviamente, ragazzi, è molto, molto legato al settore delle cripto. Nuovi fallimenti, nuovi crash e soprattutto eventi a catena come per esempio la vendita dei Bitcoin e delle cripto di Mongox che dovrebbero essere distribuiti a momenti, ma non ci dimentichiamo ragazzi, anche l'eventuale liquidazione dei billion di FTX, dovrebbero essere 5 i billion di FTX al momento recuperati. Oppure, per cose, eventi straordinari, effetti a catena di fallimenti e deleveraging che ancora potrebbero capitare nel settore delle cripto su protocolli della DeFi o dei exchange, al momento sui exchange praticamente è rimasto pochissimo, però quello che potrebbero causare questi fallimenti è un'ulteriore spinta ribassista nei confronti del settore delle cripto e dei Bitcoin che proprio in una fase del 2023 risulta essere indebolito anche e soprattutto da un punto di vista emotivo per quanto riguarda gli investitori retail e gli istituzionali che si sono già allontanati e gli investitori retail potrebbero continuare a stare lontani da questo mercato insomma in sostanza nuovi fallimenti nuovi casi nuovi scam nuove situazioni di pericolo relative a questo tipo di mercati avrebbero un impatto notevolmente negativo in un momento drammatico come questo in cui già Bitcoin comunque di suo ha risentito tantissimo di queste fasi di bassiste arriviamo però all'ultimo punto che secondo me è il vero cigno nero in questo momento che dobbiamo tenere sotto stretta osservazione per il 2023 che potrebbe in effetti innescare spirali di bassiste notevoli e sono le regolamentazioni del settore del criptovalute soprattutto nell'ambito dei protocolli cripto non di Bitcoin e quindi la cosiddetta enunciazione di cripto come security per esempio ragazzi per esempio il blocco delle stablecoin come utilizzo delle stablecoin allora questo tipo di eventi nel 2023 sarebbero estremamente catastrofici per Bitcoin in quanto bloccherebbero l'intero sviluppo della tecnologia sottostante al blockchain e quindi al settore cripto soprattutto Ethereum e compagnia bella ma ovviamente ci sarebbe un effetto rebound a catena su Bitcoin stesso per quanto Bitcoin sia esente magari da questi concetti qui ne risulterebbe indebolito in quanto l'intero mercato che serve proprio Bitcoin cioè quello delle cripto verrebbe in pratica totalmente annullato e bloccato questo è il più grande cigno nero del 2023 ed è quello sul cui secondo me bisogna puntare fortemente l'attenzione nei prossimi mesi ragazzi quindi ricapitolando cosa deve fare un investitore istituzionale un investitore retail di lungo respiro che in questo momento vuole decidere se entrare nel settore delle cripto monitorare questi punti in particolare modo dal mio punto di vista la mia opinione ragazzi il ritorno di fiamma del tasto di inflazione connesso alle questioni geopolitica quindi un eventuale peggioramento della questione geopolitica è la questione estremamente importante legata alla regolamentazione del settore delle cripto ovviamente ragazzi questo sempre perché per ottimismo e positività diciamo i fallimenti non ce ne saranno allora se andate a monitorare questi fattori riuscirete magari a stare un po' più su questo cavallo su questo toro ma questi sono i 5 punti secondo me molto rilevanti che nel 2023 ci accompagneranno se non avverranno nessuno di questi punti perché bitcoin dovrebbe continuare a scendere sulla base di quali concetti se non esclusivamente concetti di natura tecnica cioè analisi tecnica analisi del trend analisi ciclica che indicano ancora continuazione del trend ribassista ma le analisi di natura tecnica e l'analisi di natura ciclica non hanno in quel caso non avrebbero legami con un fondamento oggettivo nel mercato ciò significa che magari un'eventuale fase di ribasso di prosecuzione di ribasso avrebbe i giorni contati quindi se unite tutti questi puntini probabilmente vi si sono accese già tanti campanelli e tante idee nella testa per sapere anche come eventualmente posizionarvi alla fine di questa fase va bene ragazzi allora per oggi è tutto fatemi sapere cosa ne pensate di questi 5 punti e se secondo voi c'è anche qualcos'altro di cui mi sono dimenticato che magari potrebbe impattare in maniera boom 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 negativa su bitcoin nel 2023 ciao a tutti be Grazie a tutti.